bella regà glitch strabombazza mega paura raga come ottenere i jokers arancioni e il caschetto arancione come ottenere il jokers viola e il casco viola ragazzi quindi iniziamo subito link in descrizioni dei gruppi dove troverete il link fissato ragazzi nell'ultimo post sia per old gen sia per next gen ragazzi solo per xbox no ps mi dispiace a questo punto una volta aggiunta ai preferiti l'attività tramite social club la trovate nella categoria lts ragazzi last team standing regà a questo punto una volta che l'abbiamo aggiunta e quindi trovata l'andiamo ad avviare tranquillamente non dovremmo settare assolutamente nulla ragazzi e cosa facciamo ovviamente una squadra prenderà l'arancione l'altra squadra prenderà il viola ragazzi casco e jokers assieme quindi dovete semplicemente startare questa attività chi la starta piglia gli arancioni gli altri ragazzi prendono i viola ok quindi fate entrare i vostri amici una volta che avete aggiunto questa attività una volta che avete fatto entrare tutti i vostri amici potrete fare il glitch quindi come vedete io non tocco assolutamente nulla ragazzi e starto l'attività una volta che abbiamo fatto tutti pronti e l'attività è startata spawneremo con l'outfit originale nostro con quello della freemont dopo qualche secondo sbada bam regà sarà comparso l'outfit col caschetto e il jokers cosa dobbiamo fare semplicemente aprite il vostro menu interazione andate su inventario e cambiate i guanti non c'è bisogno che switchate per 40 giorni o a destra o a sinistra l'importante raga che vi cambiate i guanti cioè che vi mettete un altro paio di guanti che non siano quelli arancioni e a quel punto semplicemente chiudete il menu interazione aprite il telefono ragazzi e quittate l'attività come quittiamo l'attività facendo a x a oppure x quadrato x se giocate da ps ragazzi e avremo praticamente fatto il glitch quindi al momento del respawn regà in freemont vi andate a salvare l'outfit dove vi pare da ammunition negozio di vestiti dentro l'appartamento un po' dove vi viene meglio poi regà già che siamo qua è un po' che non ve lo dico quindi mi pare quasi brutto io vi consiglio di prendervi il magic slot ragazzi perché spendendo poco per il magic slot vi potete fare 15 outfit veramente una figata vi faccio vedere anche per esempio questo vedete con la giacca ci metto i guanti i loghi con il magic slot ora io ne ho due diversi dovrei farne fare un altro con quelli arancioni e verrebbe veramente carino ditemi voi cosa ne pensate ragazzi e quindi che dire vi invito anche a guardare il format che porto una volta alla settimana alla domenica le nuove esplorazioni domani ci sarà una nuova esplorazione e quindi lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete i miei video e alla prossima bella regà